ciao a tutti oggi vi mostro come aprire facilmente un avocado devo ammettere che la prima volta che ho comprato un avocado ho trovato delle difficoltà perché non sapevo come aprirlo e quindi l'ho sbucciato poi documentandomi ho scoperto che c'è un metodo molto ma molto semplice ma molto più semplice di quello che ho utilizzato io la prima volta vediamo come si apre un avocado eccoci qua allora vedete io un avocado molto molto maturo ma mi serve così perché sto per preparare una salsina una cremina deliziosa allora cosa faccio io elimino questa parte qui e vado a incidere in questo modo ok e a questo punto semplicissimo ragazzi eh non come ho fatto io la prima volta che l'ho sbucciato da qui vedete bello maturo vado a tagliare in questo modo quindi formero dei quadratini molto molto semplice adesso con l'aiuto di un cucchiaio vado semplicemente a prelevare il frutto così e dall'altra parte ok ok andiamo nella ciotola ed ecco qui ragazzi l'avocado è stato aperto e il frutto è stato prelevato guardate che meraviglia adesso procediamo anche con l'altro togliamo nocciolo ok e faccio la stessa cosa con l'altro lato avete visto che facile ed eccolo qui il mio avocado è pronto adesso posso andare a preparare la crema di avocado io spero che questo video possa essere utile a qualcuno così come è servito a me documentarmi sull'apertura di un avocado tempo fa spero che posso essere d'aiuto a qualcuno io mi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao